Scorbi E' una mamata Scorbi E' una mamata Scorbi 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 Bello tutti i ragazzi con il nostro video E noi tutti i ragazzi siamo su Pokémon Ho già fatto Due video Se non avete visto La casa L'ho già fatto Infatti mi è già Comparso un Caduna Un Caperti No No Continuiamo Continuiamo a camminare Mi piace male Perchè c'è tutto il sole dietro Con il flash e poi Non riesco a inquadrarmi Perchè non sto capace Quindi E' un po' complicato per me Ho 400 metri Dopo mezz'ora E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' complesso E' un po' complesso Se non mi piace E' un po' E' un po' Adesso Vedo che Si sono reso Ho fatto due stelle Trofei in meno si può stare un po' lungo giuro di un serebre coglioni è una macchina esatto come non andavo a porto su me è scemo io sono scemo io sono cominciato di merda due sono pettinati di merda tre chi mi guarda di merda è cinque no forse è meglio sto dicendo che questa mattina Rugano, Anio Trino ho messo le mie osse e la libero la 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 palestra ho giunto il mio 1700 se ne metta poco ci sono giunti due uno a 1560 l'altro a 1467 ma io posso combatterla però per ora nessuno oh che fuoco vabbè mi mancano un chilometro non si se ne è la toscana ragazzi perché c'è tutto appiato colcivazione più o meno quella se non sapevate io sono in mezzo alla strada però adesso dov'è? quella giù è la chiesa è la chiesa di Berganzona dove avevo fatto la prima comunione comunque voglio dirvi che questa foto di camera è fantastica perché poi per vedere tutto come tu lo esistri te lo schermo in faccia è pieno di vecchi che corrono come sembra che ci fosse una malattia io sono seduto e cagare è scema raga ne ho appena fatto in alcun metro però ho volto sboblo che è 1129 bello metro maschio per vedere il panorama questo video lo edito a casa 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 casa